buongiorno a tutti dagli onorvati benvenuti sul mio canale youtube oggi solo un video velocissimo tecnico perché perché ho fatto delle dei render intramente keyshot in altra soluzione e continua a venirmi neri e non so che per il perché magari qualcuno ha avuto lo stesso identico problema allora se capita questo c'è qualcuno che dice no di fare l'upgrade del del driver della scheda grafica ho provato a fare l'upgrade del driver della scheda grafica di nuovo sempre nero e poi ho letto di nuovo qualcun altro che dice no bisogna fare il downgrade cioè andare alla versione precedente o due versioni precedenti così non crea problemi perché perché la luxion che appunto ha progettato keyshot ha questo problema con invidia con le schede grafiche invidia e ha detto che si interfacceranno con loro per vedere di risolvere questo problema per ora dobbiamo cercando di fare un qualcosa quindi fare un downgrade ho fatto un downgrade ho fatto dei rendering e mi sembrava che funzionasse tutto poi a un certo punto ho fatto il rendering ancora che è creato i problemi allora cosa che ho fatto per ovviare tutto questo e magari utilizzare lo stesso diciamo il il driver più aggiornato la scheda grafica perché gira la scatola tornare al versione precedente andiamo a renderizzare renderizzare la nostra immagine ok vediamo un attimo renderizzare tramite appunto rendering della nostra immagine adesso lo facciamo facciamo molto piccolo tipo 640 per 3 4 38 quindi la renderizziamo ok faccio una cosa così veloce così almeno vedo di farmi capire in fretta ok una volta renderizzata anche se voi avete messo qui e diciamo il salvataggio automatico una cartella di solito il salvataggio automatico mi da l'immagine nera se invece io nella finestra di rendering cioè questa finestra qua clicco su salva salva immagini su file in questo modo gli do tipo jpeg piuttosto che png eccetera eccetera poi faccio un salva e allora non mi credo più quel problema cioè mi salva l'immagine in modo corretto quindi ovvio diciamo il problema ok spero di essere stato utile in questo video mettete un bel like iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video ciao ciao